Anticipazioni della prossima puntata di Terra Amara in onda martedì 25 luglio 2023 su Canale 5 promettono emozionanti sviluppi per i telespettatori. Unca, consapevole della necessità di porre fine alle ostilità, prende una coraggiosa decisione. Vuole chiedere ad Emir suo figlio di fare pace e tornare alla tenuta di famiglia, cercando così di riunire finalmente la famiglia spezzata. Nel frattempo nella tenuta la situazione è tesa. Ilbaz e Zuleyla hanno cercato di fuggire insieme, convinti che Uncar però li avesse traditi, si sono molto arrabbiati e feriti. Ma ben presto si renderanno conto dell'ingiustizia commessa nei confronti della madre di Emir, comprendendo che lei non ha avuto alcuna compa nella loro sventata fuga e nel tradimento del loro segreto. Durante l'episodio assisteremo a momenti di tensione e rivelazioni sorprendenti, poiché il passato oscuro di alcuni personaggi verrà alla luce, cambiando per sempre le dinamiche tra di loro. Nel frattempo Uncar, carica di emozioni e determinazione, si reca a casa di Sevda, per recuperare i suoi amati nipotini, Leila e Adnan. Questo gesto dimostra il suo desiderio di riunire la famiglia e di riportare così i nipotini a casa. La scena sarà carica di intensità, mentre Uncar si confronta con Sevda e cerca di spiegarle la vera situazione, le intenzioni pacifiche, sperando di ottenere la fiducia di Sevda e riportare i bambini a casa. Nel frattempo Ilmaz e Zuleila sono stati inizialmente sospettosi e rabbiosi e incominceranno a riflettere sulla situazione, su come fare i conti con il loro passato e le loro decisioni future. Le emozioni raggiungono l'apice dell'attesissimo episodio appunto di Terra Amara. Uncar, con il cuore carico di speranze e rimpianti, si avvicina a Demir, suo figlio, sperando di porre fine alla lunga faida familiare. Nel cuore della villa, un luogo che un tempo era simbolo di unione ed amore. Uncar si avvicina con timore, ma anche con la determinazione di una madre che vuole risanare le ferite di un passato. Con voce tremante pronuncia parole sincere e commosse, implorando il figlio di tornare a casa, di ricongiungersi con la famiglia e che ancora lei lo ama. Ti prego, Demir, dice, mentre le lacrime affiorano nei suoi occhi. Abbiamo già perso così tanto tempo. Voglio che tu torni, voglio che tu sia parte di questa famiglia ancora una volta. Il cuore di Demir è tormentato dalle amarezze del passato. È scosso dalle parole di sua madre. Lotta contro se stesso, tra il desiderio di riconciliarsi e la paura di essere nuovamente ferito. Ma alla fine il suo amore per la famiglia e la speranza di una nuova vita sono più forti. Accetta, con un misto di riluttanza e speranza, la proposta di sua madre di tornare alla tenuta Yaman. Ma il destino riserva nuove sfide e tensione. Uncar, ancora risoluta a proteggere Zulela, nasconde ad Demir la rivelazione fatta dalla nuora a Yilmaz sulla vera paternità di Adla. La consapevolezza di questa verità sconvolgente rimane nascosta, destinata a creare un muro tra madre e figlio, anche se nel momento della riconciliazione sembra tutto tranquillo. Nel frattempo la vita di Zulela è in tumulto. Ha scelto di rinunciare alla fuga con Yilmaz, perché non può immaginare la vita senza i suoi amati figli, Leila e Adan. Ma dentro di sé brucia il desiderio di liberarsi dalle catene di un matrimonio senza amore. Con il coraggio si rivolge a Demir per chiedere il divorzio, sperando di trovare finalmente la sua libertà. Tuttavia le sorprese non mancano, poiché anche Yilmaz, lontano dalla sua amata Zulela, si trova nella stessa situazione. La tensione si moltiplica quando Mujica, sua moglie, si rifiuta di concedergli il divorzio. Le vite intrecciate di questi personaggi sono destinate a scontrarsi in un vortice di emozioni e decisioni difficili. Nell'ombra Zulela e Unkar si ritrovano unite da un segreto che minaccia di sconvolgere ancora di più l'equilibrio della famiglia. La verità sulla paternità di Anna, svelata a Yilmaz, è come una bomba pronta ad esplodere, portando con sé ulteriori colpi di scena nelle puntate successive. E come al solito ti invito a iscriverti al canale e a regalarmi il tuo like, semplicemente per non perdere nessun'altra novità entusiasmante. Al prossimo video!